È inutile parlare ancora di tutte queste cose, ormai la nostra situazione non ha una via d'uscita, cerca un altro argomento di conversazione. È inutile tentare ancora, non c'è la soluzione, ma quante volte hai già tentato e dopo hai rinunciato, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così e dico non pensiamoci che cosa vuoi pensare, ormai conviene più lasciare le cose come stanno, cerca un altro argomento di conversazione. E dici sempre che tra noi qualcosa è rimasto, io dico che cosa è rimasto, mi dici forse tutto, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così, è inutile parlare ancora di tutte queste cose. Se proprio si dovrà parlare facciamo come dico io, cerca un altro argomento di conversazione. Cerca un altro argomento di conversazione.